Ventesima lezione dell'insegnamento di analisi 3 per il corso di laurea triennale in matematica dell'Università di Ferrara. In questa lezione esaminiamo alcune applicazioni della trasformata e della serie di Fourier in cui mettiamo in pratica un po' tutte le cose che abbiamo imparato sulla trasformata di Fourier. Il primo aspetto che esaminiamo va sotto il nome del teorema del campionamento di Shannon. Possiamo considerare una funzione f di t, usiamo la variabile indipendente t per indicare il tempo, quindi f di t li possiamo pensare come un segnale che si evolve nel tempo, un segnale sonoro ad esempio, una serie storica, qualsiasi fenomeno che si evolve nel tempo. La trasformata di Fourier e la serie di Fourier come abbiamo visto già nelle lezioni precedenti ci permettono di analizzare questo segnale e di conoscere il contenuto in frequenza delle componenti del segnale. Ora supponiamo di campionare questo segnale in certi istanti di tempo, t1, t2, t3 e quindi di conoscere il valore della funzione f di t1, f di t2, f di t3 quindi supponiamo di avere un certo segnale che si evolve però di questo segnale noi andiamo a misurare il valore in certi punti, non in tutti i punti del grafico quindi conosciamo alcuni punti di questo grafico. Ok, conoscendo solo il valore nei punti campionati possiamo ricostruire la funzione oppure quali informazioni sulla funzione riusciamo a ricostruire? Ovviamente se la funzione è generica, conoscere la funzione solo in un numero finito o anche numerabili di punti non mi permette di dire niente sugli altri punti ci sono tantissime funzioni che passano da quei punti ma che non si avvicinano per niente dalle altre parti oppure ci può essere un'altra funzione che passa sempre per gli stessi punti diverse dalle precedenti ecco qua quindi conoscere la funzione solo in alcuni punti non mi dice molto a meno che non abbia ulteriori informazioni sulla funzione quello che facciamo adesso è di fare come ipotesi che la funzione in questione il segnale in questione possieda uno spettro limitato di frequenze ad esempio se è un segnale sonoro quindi che contiene frequenze nella gamma di quelle percepite dall'orecchio umano quindi diciamo che F è un segnale a banda limitata questo cosa significa? significa che l'ipotesi che facciamo è che la trasformata di Fourier di questo segnale abbia supporto contenuto in un intervallo limitato chiamiamolo da meno omega a omega cioè quando la frequenza omega piccola sta fuori da questo intervallo la sua trasformata fuori da questo intervallo è nulla se la trasformata di Fourier è una funzione integrabile grazie alla formula di inversione possiamo ricostruire la funzione la funzione F utilizzando la formula di inversione che questa volta sarà un integrale non più da meno infinito più infinito ma siccome la trasformata di Fourier è a banda limitata l'integrale lo potremo limitare da meno omega ad omega in questo integrale la variabile tempo entra in gioco solo nell'esponenziale e alla i omega t che cos'è questo e alla i omega t? è una funzione che oscilla è coseno di omega t più i seno di omega t le oscillazioni di questo armonico sono trascurabili su piccoli intervalli se noi andiamo a prendere un intervallo delta t molto più piccolo del reciproco di omega andiamo a vedere quanto varia e alla i omega t rispetto a e alla i omega t più delta t quindi ci spostiamo di delta t nel tempo raccogliendo un e alla i omega t che ha modulo 1 rimane il modulo di e alla i omega delta t meno 1 e questa quantità è sempre minore o uguale dell'argomento omega delta t se delta t è minore di omega alla meno 1 questa quantità qui è molto 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 piccola molto più piccola di 1 tanto delta t è più piccolo di 1 su omega tanto questo prodotto è più piccolo di 1 ci aspettiamo allora ah ecco questa disuguaglianza qui è facile da ottenere scrivete e alla i teta come cosiddetto il seno di i teta e provate a ricavarvela da sola a dimostrarlo alla fine vi riconducete al fatto che il seno di un angolo è sempre minore dell'angolo in valore assoluto ci aspettiamo allora che se questo armonico varia di poco quando t si sposta di un intervallo piccolo anche i valori della funzione f di t differiscano di poco quindi conoscere f di t nel punto t o poco più in là nel punto t più delta t non cambia molto e questo ci dice che quindi se andiamo a campionare la funzione a intervalli non troppo distanti l'uno dall'altro bene o male riusciamo a capire ad avere un'idea abbastanza accurata dell'andamento generale della funzione questa è l'idea che sta alla base del teorema di Shannon sul campionamento dei segnali di banda limitata e la dimostrazione di questo teorema sarà una combinazione di cose che abbiamo imparato sulla serie di Fourier e sulla trasformata di Fourier cosa dice il teorema di Shannon? dice che se una funzione di L2 ha una trasformata di Fourier con supporto in un intervallo limitato diciamo da meno omega maiuscolo a omega allora noi possiamo ricostruire completamente la funzione f usando i valori che la funzione f assume nei punti k per pi greco su omega dove k varia in z quindi abbiamo una successione discreta di punti una progressione aritmetica di punti andando a calcolare la funzione solo in quei punti conoscendo il valore della funzione solo in quei punti possiamo ricostruire perfettamente la funzione e abbiamo una formula che ci dice che f di t è la somma dei campioni f nel punto k di pi greco su omega per il seno cardinale di omega t meno k pi greco il seno cardinale è la funzione che abbiamo già visto è seno di t fratto t la dimostrazione si basa sul decomporre la trasformata di Fourier tramite serie di Fourier cioè se la trasformata di Fourier sta in L2 su un intervallo da meno omega a omega la trasformata di Fourier intanto se sta in L2 su un intervallo limitato sta anche in L1 di quell'intervallo limitato e siccome fuori dall'intervallo è 0 la f cappuccio sta in L1 di tutto r questo cosa ci dice? ci dice che la trasformata dalla trasformata quindi per la formula di inversione la funzione f è una funzione continua teniamolo presente che lo useremo dopo questo fatto poi andiamo a espandere f cappuccio in serie di Fourier come dicevamo lo facciamo usando l'espansione in serie di Fourier non sull'intervallo da meno pi greco a pi greco ma sull'intervallo da meno omega a omega dove vive la trasformata e quindi usando le formule che abbiamo già ricavato a suo tempo quando parlavamo della serie di Fourier abbiamo una somma di armonici ovviamente opportunamente modulati dal rapporto fra pi greco e omega ricordate c'era una costante che era 2 pi greco fratto la lunghezza di intervallo che in questo caso è 2 omega quindi 2 pi greco fratto 2 omega viene pi greco fratto omega i coefficienti i coefficienti di Fourier sono dati dal solito integrale quindi stiamo trasformando la trasformata di Fourier in serie di Fourier quindi faremo l'integrale della trasformata di Fourier per e alla meno i k pi greco su omega omega l'integrale da meno omega omega diviso la lunghezza dell'intervallo ma questa formula qui questa formula qui che cos'è? non è altro che la trasformata di Fourier della trasformata di Fourier perché sappiamo che la trasformata di Fourier vive sull'intervallo da meno omega a omega quindi questo è come se fosse fatto l'intervallo dell'integrale da meno infinito a più infinito della trasformata di Fourier e quindi abbiamo una doppia trasformata di Fourier calcolata in k di pi greco omega la doppia trasformata di Fourier per la formula di inversione è 2 pi greco la trasformata di Fourier la funzione è rovesciata quindi 2 pi greco fratto 2 omega abbiamo pi greco fratto omega la funzione è rovesciata quindi calcolata in meno k di pi greco su omega ecco che quindi abbiamo calcolato i coefficienti abbiamo calcolato i coefficienti della serie di Fourier della trasformata li andiamo a sostituire quindi ecco che la trasformata di Fourier la possiamo ricostruire con i valori della funzione cambiamo k in meno k così abbiamo un più k qui dentro e un meno k qua nel termine armonico quindi abbiamo sviluppato la trasformata di Fourier in una somma di termini usando il campione della funzione usiamo ancora la formula di inversione per cui per la formula di inversione la f si può scrivere come 1 su 2 pi greco integrale da meno integrale da meno infinito infinito della trasformata di Fourier ma vive solo sull'intervallo da meno omega a omega andiamo poi a sostituire al posto della trasformata di Fourier la sua espressione con questa serie di funzioni quindi raccogliamo un pi greco omega fuori dall'integrale pi greco si semplifica rimane 1 su 2 omega integriamo termine a termine la somma quindi l'integrale della somma sarà la somma dell'integrale per poco spiegheremo perché questa operazione di passaggio della serie dentro fuori dall'integrale è giustificata portando l'integrale dentro la serie l'integrale è in omega minuscolo la funzione il campione non dipende da omega minuscolo quindi rimane solo l'integrale da meno omega omega del termine e alla i k pi greco su omega omega minuscolo per e alla i omega minuscolo t questo è un integrale di un termine esponenziale che è facile da calcolare quello che si ottiene integrando quantità di questo tipo è esattamente un seno cardinale quindi se al posto di tau andiamo a mettere t meno k pi greco omega quando andate a fare omega tau avete esattamente omega t meno k pi greco quindi abbiamo esattamente la formula dell'enunciato questa qua abbiamo fatto un'operazione di passaggio della serie dentro fuori dall'integrale perché possiamo integrare termine a termine questa serie per il fatto che questa serie di furie sappiamo che converge in l2 di meno omega omega la funzione f cappuccio è una funzione di l2 quindi quello che stiamo facendo quello che stiamo facendo quando facciamo la formula di inversione non è altro che un prodotto scalare con questa serie cioè noi questa questa formula di inversione qui la possiamo scrivere come 1 su 2 pi greco il prodotto scalare di f cappuccio per e alla meno i omega t il prodotto scalare di l2 da meno omega ad omega la serie di furie converge nelle due il prodotto scalare è continuo nei suoi argomenti quindi il limite delle somme parziali se noi qui adesso al posto di f cappuccio andiamo a mettere una serie convergente che coincide con il limite delle sue somme parziali il prodotto scalare è continuo quindi il limite passa fuori dal prodotto scalare e possiamo integrare termine a termine quindi questo non è altro che la somma dei prodotti scalari con le singole componenti di questa serie poi osserviamo un'altra cosa se andiamo a vedere la formula che ci dà il teorema di Shannon otteniamo quindi una serie dove stiamo sommando questi campioni con queste funzioni la t appare solo qua dentro ecco quindi invece che usare decomporla la f in somme di armoniche elementari come si fa nella serie di furie qui adesso abbiamo queste funzioni seno cardinale di omega t meno k pi greco l'osservazione che facciamo è che queste funzioni al variare di k in z sono funzioni ortogonali tra di loro anzi formano una base ortonormale per lo spazio delle funzioni L2 non generali ma la cui trasformata si annulla fuori dalla banda di frequenza da meno omega a omega e la formula di campionamento di Shannon non è altro che l'espansione in serie di furie astratta fatta rispetto a questa base ortonormale invece che la base del sistema trigonometrico ecco queste affermazioni che faccio in queste osservazioni qui ve le lascio come esercizio da verificare cioè l'ortonormalità di questo sistema e la completezza la completezza la ottenete automaticamente dal teorema di Shannon se andate a vedere il teorema dalla base negli spazi di Hilbert perché una volta che un elemento di uno spazio di Hilbert si può sempre scrivere come serie degli elementi del sistema ortonormale allora quel sistema ortonormale è completo ecco questa quindi è una cosa interessante quindi calcolando dei campioni a intervalli regolari della funzione possiamo ricostruire tutta la funzione il problema pratico è che la formula di campionamento che ci viene data dal teorema di Shannon ha una convergenza che di solito se andate a esaminare è molto lenta questo è dovuto al fatto che vedete quando k cresce che va all'infinito il seno cardinale decade va come uno su k quindi è un decadimento piuttosto lento si possono ottenere formule con convergenze più rapide usando campionamenti con sequenze temporali più fitte ad esempio se invece di prendere istanti che differiscono fra di loro di pi greco su omega andate a fare un intervallo di campionamento più ridotto quindi pi greco su lambda omega con lambda maggiore di 1 ecco che la funzione seno cardinale rifacendo calcoli analoghi a quelli che abbiamo fatto nel teorema di Shannon verranno sostituiti da funzioni con decadimento che possono essere dell'ordine di uno su k quadro e questo fatto ve lo lascio come esercizio da verificare a caso c'è una traccia in fondo grazie a tutti